un saluto guardiani bentornati bentornati qui su destiny oggi proprio mi scende una lacrima sì perché mamma mia stiamo andando a fare una la prima e forse l'unica perché ho deciso di farla perché per alcuni motivi che vi dirò dopo la prima è probabilmente l'unica recensione nostalgica di destiny recensione nostalgica perché parliamo guarda guarda che bello è lui oggi parliamo riparliamo del mitoclast vex riparliamo perché è uno dei motivi per cui voglio fare questa recensione nostalgica perché il mitoclast vex è la prima arma che recensi nel lontano non mi ricordo comunque è passato molto tempo il mio primo video sul canale riguardante destiny se non erro fu proprio una recensione esotica del mitoclast vex con fatta con una voce rotta dall'inesperienza da dal dal non sapere che cazzo dire da da un microfono che gracchiava peggio di questo perché anche questo gracchia ma non si capiva un cazzo fatta un po così poi tra l'altro non le chiamavo recensioni perché no voglio distinguermi dalla massa e le chiamo analisi o analisi esotica qualcosa del genere adesso non mi ricordo quindi non la chiamai recensione al tempo e appunto questa fu la mia prima arma che desiderai con tutto me stesso perché perché si trattava di un'arma iconica è un'arma dell'anno 1 allora per chi non dovesse saperlo quest'arma ragazzi anche per chi magari ha iniziato a giocare da poco ma anche non da pochissimo perché questa è del destiny non solo anno 1 ma prima espansione zero espansione cioè all'inizio quando il ride era la volta di vetro quando il level cap era il 30 e per raggiungere il livello 30 si faceva appunto bisognava trovare trovare i pezzi del sole armature del ride della volta di vetro e la volta di vetro ovviamente aveva un drop rate cari ragazzi che rispetto a quello di adesso era violento perché col cazzo che droppavate qualcosa tutte le settimane potevano esserci tipo diverse settimane in cui non droppavate una ceppa di niente il mitoclasta vex in questione era l'arma esotica del ride quello che poi fu il necrochiasmo nell'espansione di crota quello che poi fu non si sa che cosa nell'espansione del casato di lupi perché è una effettiva arma del ride che non c'era ride ma forse delle prigiene degli anziani non c'era un cazzo e quella che potrebbe essere il tocco del male nell'ultimo ride potrebbe perché alla fine non è legato strettamente al completamento oddio sì perché devi comunque completare il ride nella modalità anche normal per poter ma si tratta comunque di un'impresa invece il mitoclasta vex così come per esempio il necrochiasmo erano armi che potevano essere droppate solo ed esclusivamente battendo il boss finale del ride in hard mode mitoclasta nel caso del mitoclasta vex bisognava avere fortuna ma molta fortuna perché io l'ho droppato tipo dopo 20 o 30 volte della volta di vetro non come succede adesso che se fate la volta di vetro ve la tirano dietro il mitoclasta e non sapete neanche che cazzo avete in mano perché sicuramente vi è capitato alcuni di voi alcuni che conosco io che appunto abbiano messo tra virgolette e non sanno che cazzo hanno in mano ma questa è un'arma leggendaria nel senso ecco intanto c'ho il bb 8 che mi chiama leggendaria nel senso nel senso proprio non del discorso leggendario esotica è un'arma iconica è un'arma meravigliosa è la mia arma preferita è l'arma era l'arma più potente del gioco e secondo me è ancora l'arma più potente del gioco non me ne frega un cazzo del discorso del livello di attacco è un'arma che io spero che quegli intelligentoni della bungee decidano presto o tardi di portare all'anno 2 appunto si otteneva uccidendo ateon nel ride la volta di vetro in hard mode quindi era al livello 30 il che vuol dire che farlo adesso è uno scherzo praticamente anche se probabilmente proprio forse così tanto uno scherzo perché la volta di vetro resta il ride più completo e più difficile e più strutturato secondo me magari non più difficile adesso ormai perché il livello dei dei mostri sono è quello che è quindi non è che ci sia non è stato aumentato purtroppo mai il livello dei ride comunque allora si otteneva così è giusto per chiudere la premessa abbiamo parlato del necrochiasmo il necrochiasmo non si otteneva direttamente da crota ma si otteneva un'arma da sviluppare si otteneva in pattuglia dai cavalieri normali un'arma bianca che poi si sviluppava in leggendaria e che solo mediante la croce di crota che era un oggetto esotico che veniva droppato casualmente uccidendo crota in hard mode grazie a questo oggetto questo consumabile applicandolo sull'arma diventava esotica diventava quello che è il necrochiasmo tuttora quindi di fatto l'arma esotica del ride ottenibile solo ed esclusivamente facendo battendo il boss in hard mode quindi per questo dico che queste due armi restano tra virgolette legate tra loro e cosa che manca che è mancata sicuramente col casato dei lupi che non c'era un ride ed è stata una cosa veramente scandalosa proprio da buttare il cd nel cestino lontano ma e che manca per ora almeno perché non si non si sa manca per ora anche su ride di oryx comunque ragazzi mitocrasta ha segnato proprio una è un'epoca un'era di giocatori perché è un'arma molto particolare un'arma che ha dei perk particolari è una tipologia di arma particolare perché perché adesso vediamo un pochettino quello che proprio è il mitoclasta vex il mitoclasta ex è un fucile a fusione a tutti gli effetti quindi tutto ciò che riguarda i fucili a fusione ciò che era per esempio perché una volta le taglie erano molto più difficili di adesso adesso sono delle cazzate fare le taglie dell'avanguardia del crogiolo eccetera una volta erano molto più complesse molto più intricate da fare tra queste certo c'erano diverse taglie legate a delle uccisioni fatte con i fucili a fusione cosa succede succede che fare uccisioni in determinate situazioni con un fucile a fusione standard è un casino perché come sapete hanno una velocità di recupero hanno un tempo di recupero hanno pochi proiettili nel caricatore compagna bella quindi ci si trova in difficoltà ma grazie al mitoclasta vex che è un fucile a fusione e che si comporta però come un fucile automatico perché spara come un fucile automatico un fuoco automatico grazie al suo perk intrinseco che è mitoclasta eterno che stiamo vedendo quest'arma non deve ricaricarsi ma ogni volta che viene prodotto il grilletto spara un colpo singolo allora come era se io non sono ancora sceso giù a provarlo perché sapete che bange e destiny cambiano le carte in tavola molto spesso ma leggendo questa descrizione pare che ci sia un colpo singolo ad ogni grilletto ma adesso poi dopo andiamo giù a provarlo ma in realtà il mitoclasta ha era a adesso vediamo un fuoco automatico quindi spara automaticamente tutti quanti i colpi del caricatore proprio come se fosse un fucile automatico rendendo di fatto molto più semplice fare tutte quelle taglie di merda dei fucili automatici infatti ci feci anche diverse guide all'inizio sempre comunque un'arma iconica una di quelle armi che quando vedevi il bollino in alto a destra dell'ottenimento dell'arma esotica qua in alto a destra quando battevi ateo la gente praticamente o faceva un infarto esplodeva si strappava i capelli perché era veramente un drop sculato sculatissimo perché aveva un drop rate bassissimo poche persone l'hanno ottenuto facilmente il mitoclasta vex vi parlo dell'anno 1 non di adesso che ve lo lanciano dietro perché ho visto gente farlo una volta alla volta di vetro e ottenere il mitoclasta vex motivo per cui mi sta sui coglioni destiny ormai è da tempo che lo dico perché certe cose che venivano fatte con difficoltà precedentemente adesso praticamente vengono regalate quindi il valore di quest'arma era anche quello era un'icona era un'arma che ottenerla era molto difficile e di conseguenza averla significava essere molto bravi essere stati pazienti essere stati bravi ha fatto il ride che era l'attività più difficile è l'attività più difficile di destiny in hard mode e quindi era voleva dire essere bravi e avere un'arma tra le mani veramente veramente devastante ha subito anche dall'inizio quest'arma innumerevoli buff e nerf perché di fatto inizialmente era veramente troppo troppo forte sia anche in crogiolo e ovviamente a seguito delle lamentele tra virgolette oppure delle statistiche prese da quelli della bungee così come dicono loro è stata hanno trovato la giustificazione hanno trovato un modo per nerfarla è stata nerfata è stata resa quasi inefficace per poi ripotenziarla e riportarla ai fastidi un tempo quindi era diventata di nuovo di nuovo meravigliosa e devastante di fatto quest'arma è finita con l'avvento dell'anno 2 con discorso del livello di attacco non potenziabile è tra virgolette finita in comunque con le sue caratteristiche migliori e quindi è rimasta la leggenda che è tra l'altro se noterete ha un livello di attacco leggermente superiore a quello che poteva essere da standard perché in effetti una volta il livello di attacco massimo era 300 questa arrivava a 320 o 325 adesso non vorrei sbagliarmi e ha conservato ha conservato questa sua caratteristica come potete vedere nel livello di attacco aggiornato di adesso che insomma le armi dell'anno 1 non possono superare il 170 ma il mitoclasta vex può arrivare a 177 proprio grazie al fatto che così come anche il necrochiasmo essendo un'arma molto particolare un'arma di difficile ottenimento un'arma tra virgolette unica doveva avere anche una peculiarità di attacco più forte rispetto alle altre ma vediamo brevemente le sue caratteristiche allora intanto ha un danno elementale solare un danno a fuoco e vediamo le statistiche ha un tempo di recupero molto irrisorio cioè è veloce ma non ha molto senso perché avendo appunto un fuoco automatico di fatto quest'arma non ha un tempo di recupero un impatto molto buono una gittata molto buona una stabilità eccezionale una velocità di ricarica fenomenale un caricatore a tre colpi che ragazzi mi meraviglia perché in realtà adesso quando scendiamo giù cercheremo di capire in realtà il caricatore non è da tre colpi ma doveva essere da 26 colpi a un caricatore funziona funzionava almeno adesso vedremo analogamente proprio a un fucile automatico aveva 26 colpi che potevano essere aumentati a 32 se non sbaglio quel caricatore steso adesso non mi ricordo precisamente i numeri e però appunto che funzionava proprio perfettamente come un fucile automatico sparavate il vostro caricatore di colpi cambiavate caricatore e via e così via funziona ovviamente essendo anno 1 legato al solito sistema di tre tier di abilità e più quattro perk anzi due perk intrinsechi e vabbè poi dopo i suoi potenziamenti al danno perché una volta il potenziamento al danno veniva sbloccato con dei perk saliva gradualmente fino ad arrivare al livello massimo di attacco quindi con molto più dispendio di parti di arma e di materiale rispetto ad ora come funziona ora una volta e anche lumen una volta per potenziare al massimo un'arma a parte che non c'era il giochino delle particelle di luce da nabbi come adesso ma per potenziare un'arma serviva farsi il culo e ovviamente spendere molte risorse comunque vediamo allora abbiamo già visto mitoclasta eterno che di fatto rendeva e adesso vedremo come funziona rendeva il mitoclasta vex un fucile a fusione con fuoco automatico prima trio di abilità avevamo madonna che lacrime ballistica aggressiva compensatore lineare e controllo di rincuro intelligente ovviamente controllo di rincuro intelligente aumentava la stabilità molto utile perché di fatto un unico se vogliamo chiamarlo difetto ma difetto non è perché è migliorabile è appunto il la stabilità ma grazie appunto al controllo di rincuro intelligente possiamo tirare sulla stabilità di molto primo perk del dell'arma è il momento zen che ci aiuta col discorso che causando danni l'arma causando danni l'arma diventa ulteriormente più stabile che era questo rende quindi causando danni che voi spariate nel pve o nel pvp quindi anche il crogiolo l'arma diventava immobile eccezionale vabbè poi c'erano i soliti aumenti al danno e secondo trio di abilità dove troviamo caricatore esteso che appunto aumentava il caricatore adesso non lo possiamo vedere lo vedremo dopo in gameplay perché qua non aumenta da tre aveva un caricatore più capiente oppure missiva che aumenta aumenta la gittata e la precisione oppure leggerezza che tenuta in mano l'arma fornisce più due di agilità del personaggio allora qua la scelta era opzionale nel senso che se c'erano situazioni in cui si preferiva un caricatore esteso un caricatore più capiente semplicemente si metteva caricatore esteso invece in situazioni dove magari si preferiva rimanere più defilati si andava semplicemente a utilizzare missiva in modo da avere una gittata maggiore e possibilità di causare danno a nemici più alla distanza infine leggerezza è un perk legato sicuramente al crogiolo ma io non lo considererei come appetibile rispetto agli altri due ma giocherei semplicemente su questi due io tenevo di più caricatore esteso perché con quest'arma prediligevo un gioco un po più d'attacco di conseguenza i colpi in più che c'erano il caricatore più capiente era molto più utile andiamo avanti e il suo percone meraviglioso eccolo qua gestione della folla lo conosciamo le uccisioni con quest'arma forniscono danni bonus per breve tempo quindi oltre alla stabilità aumentata causando danni avevamo una danno un danno bonus sulle uccisioni fatte con quest'arma cioè poi ammazzate un nemico perfetto vi fornisce un danno bonus per breve tempo per i nemici successivi i suoi soliti potenziamenti al danno e abbiamo finito con il perk dell'arma ovviamente era un'arma votata molto molto utile anche se comunque c'erano le sue leggendarie del ride della volta di vetro che erano anch'esse molto molto utili per completare il ride ma anche il mitocrastalex era poteva essere molto utile ricordiamoci che si tratta di un'arma primaria con un danno elementale cosa che ora non c'è più purtroppo ok direi che con grande nostalgia scenderemo su venere perché ha senso andare su venere con quest'arma a fare un po il culo ai nemici e a vedere come si comporta quest'arma ed eccoci impattugliamento su venere madonna piango sparati guardate che bello il nostro mitoclast avex allora per fortuna non è cambiato nulla vedete il caricatore in basso a sinistra 28 colpi e il fuoco come appunto vi dicevo poco anzi è un fuoco automatico vedete che gestione della folla appena staccato è quel perk che rende che aumenta i danni delle dei colpi successivamente a delle uccisioni fatte quindi di fatto rimane un ecco qua è cambiato il si è svegliato il discorso del caricatore quindi con caricatore esteso abbiamo 28 colpi con gli altri per che ne abbiamo 21 quindi a seconda dell'utilizzo che vorrete farne potrete utilizzarne o 28 o 21 avete visto che appunto funziona in tutto e per tutto come fucile automatico che ne spara in modalità automatica non è stabilissimo vedete che il rinculo c'è quindi va un po gestito mamma che bello però vi posso assicurare che è meraviglioso è veramente fantastico è un'arma non facile da usare rispetto anche guarda mi sono un po disabituato vi dico la verità questo e questo mi fa oltre che nostalgia mi fa anche rabbia perché forse le armi che abbiamo adesso sono anche un po più facilitate rispetto a quelle di una volta però vi posso garantire che è devastante vedete intanto che i nemici prendono fuoco perché si tratta comunque di un fucile a fusione e momento zen a causare danni con l'arma ne aumenta la stabilità anche questo è un perk che appunto si può provare sulla persona gestione della folla l'abbiamo visto e ragazzi io mi ammazzo qualche altro nemico e poi e poi concludiamo il video finiamo la run perché veramente è un momento di nostalgia eccezionale ecco sono anche caduto come un imbecille no ecco finito i colpi mamma che bello che arma che arma che arma che arma questo è il mitoclasta vex questo era il mitoclasta vex io spero veramente adesso nei limiti del discorso che si tratta di un gioco spero veramente con tutto me stesso che bangi decida di portarlo all'anno due soprattutto senza rovinarlo nel senso che lo lasci così perché se piuttosto che cambiare gli perk o fagli cose strane è meglio piuttosto che lo lasciano lasciano così ovviamente è un pensiero sentito un po da tutti anche i miei compagni i miei colleghi di di gioco nel senso è una sensazione condivisa da tutti i giocatori diciamo veterani di destra il mitoclasta di fatto è una grande arma ed è un'arma che un po tutti vogliamo vedere tornare ai fasti di un tempo ok ho finito anche i colpi quindi direi di trovarci una zona e invece no spariamo anche all'ultimo stronzo ci troviamo poi una zona defilata dove salutarci fatemi sapere ovviamente questo video l'ho fatto anche per avere la vostra opinione e anche per sentire la vostra storia con il mitoclasta vex l'avete droppato da poco l'avete droppato successivamente considerate che anche se l'avete droppato facilmente tipo ora che il drop rate è molto più alto comunque io vi ammiro e vi rispetto per il fatto che abbiate fatto un ride che di fatto ora come ora non serve a niente perché non da ricompense dell'anno 2 e quindi comunque siete stati bravi se non l'avete ottenuta ancora non sapete cos'è destini se non avete fatto la volta di vetro se non avete quest'arma non l'avete ottenuta non sapete giocare a destini non sapete che cos'è destini e mi dispiace comunque detto questo fatemi sapere in ogni caso pacificamente cosa ne pensate se pensate di ottenerla se non sapevate della sua esistenza se dopo questo video vi butterete a cercare di trovare qualcuno per fare la volta di vetro e ottenerla o se l'avete ottenuta anche voi se l'avete dall'anno 1 se volete vederla anche voi rispetto alle altre armi per poterla vedere anche voi nell'anno 2 insomma ditemi le vostre considerazioni per questo video che è un video particolare di questa recensione nostalgica io direi che ho detto tutto o quasi e visto che mi stanno sparando io continuo a fare il culo ai corrotti addirittura giusto per fargli vedere com'è la vecchia scuola e comunque per questo video è tutto io come sempre vi auguro buona fortuna di drop e ci vediamo al prossimo video ciao guardiani